terapeutico sia nel caso ritenga di aver subito un danno. Grazie. Grazie, onorevole Locatelli. Ha scritto a parlare il deputato Fucci. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Il provvedimento sulla responsabilità professionale in campo sanitario che ci accendiamo a votare è complessivamente positivo. Esso ha certamente il pregio, come emerso in molti interventi in Aula, di dare finalmente all'Italia un quadro normativo di riferimento in una materia che, per le dimensioni del contenzioso, ha assunto una rilevanza sempre maggiore e che chiama in causa, da un lato, la cosiddetta medicina difensiva, con i costi da essa generati, e dall'altro la necessità di garantire all'Italia un sistema adeguato di gestione del rischio clinico. Tra gli aspetti positivi del provvedimento vi è quello relativo alla gestione del rischio clinico. È positiva la creazione del Centro per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente, incaricato di raccogliere i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari, per poi trasmetterli all'organismo di riferimento nazionale. Inoltre si istituisce, questo grazie anche ad una sollecitazione con un emendamento da parte dei conservatori riformisti accolta in Commissione, un osservatorio nazionale sulla sicurezza e in sanità. Sono inoltre importanti i richiami espressi al ruolo delle società scientifiche e alle loro linee guida, così come apprezziamo in linea generale la disciplina relativa al tentativo di conciliazione e ai consulenti e periti. Un aspetto invece che secondo noi suscita grande perplessità è quello relativo alla natura giuridica differenziata tra la responsabilità del professionista, che è extra-contrattuale, e la responsabilità della struttura, che invece è contrattuale. Inoltre la responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario, non che attraverso la telemedicina. Come ho avuto modo di spiegare prima in Commissione e poi durante l'esame dell'articolo 7 in Assemblea, ciò, temiamo, possa portare alla coesistenza di due cause distinte, con conseguente diverso atteggiarsi, per esempio, dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento. E questo può creare confusione e incertezza in campo civile. Vi sono poi temi su cui, a mio parere, sarebbe stato possibile fare ulteriori miglioramenti. Penso anzitutto alla disciplina sull'azione di rivalsa sul medico da parte della struttura sanitaria. L'articolo 9 del provvedimento, infatti, non risolve i problemi ben noti agli operatori in merito alle conseguenze degli accordi stragiudiziali raggiunti automaticamente dalle aziende con i pazienti. Ma penso anche al tema, che ha una forte incidenza economica per le strutture, per l'esercente e la professione sanitaria, della copertura assicurativa, che continua a non riguardare anche i danni cagionati da deficit gestionali e organizzativi delle aziende. Il mio auspicio, nel concreto, signor Presidente, mi avvio a conclusione, è che il lavoro svolto alla Camera in prima lettura sia un contributo utile che poi il Senato, anche in riferimento alle criticità evidenziate dai conservatori riformisti da prima in Commissione e poi in Assemblea, sia in grado di migliorare ulteriormente. Desidero in conclusione ribadire che l'obiettivo del legislatore nel delicato campo toccato dal provvedimento deve essere in primo luogo quello di tutelare sia la professionalità del personale medico-sanitario che la serenità dei pazienti e dei loro familiari. E con questo spirito noi conservatori riformisti abbiamo dato un contributo sempre costruttivo ai lavori su questo provvedimento. E con questo spirito in conclusione dichiariamo il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie, onorevole Fucci. È scritto a parlare il deputato Mario Marazziti. Pregone a facoltà. Grazie, Presidente. Siamo al voto finale di una legge particolare che interviene su rischio clinico e sanitario sul sistema di garanzie e sicurezza per la salute dei cittadini. Una legge difficile, molto tecnica. Ieri soltanto abbiamo votato 172 volte per arrivare a un buon testo equilibrato. Ma è una legge che riguarda tutti, tutti i cittadini, tutti noi. Più salute, meno paura, più diritti ai cittadini. Rimette al centro la salute, cioè fare bene le cose, più tranquillità per i medici, più certezza per i cittadini. Se qualcosa va male possono e debbono avere la garanzia di un risarcimento.